Ennesimo sgombero evitato per la famiglia Moneti, che oggi, martedì 11 aprile, avrebbero dovuto liberare la propria casa in via Persoria, consegnandola ai legali della nuova acquirente. Questo però non è avvenuto. Discorso rinviato tra due giorni. Il 13 aprile alle ore 11, il giovane Alessandro e la sua famiglia dovranno lasciare le chiavi del loro appartamento. Per quel giorno però il padre Giuseppe assicura che non ci sarà alcun rilascio dell'immobile, alla luce del fatto che il contratto che hanno firmato per il nuovo appartamento di Loreto partirà dal primo di giugno e nel frattempo non saprebbero dove andare. Noi però per il 13 non saremo pronti, lo dico qui pubblicamente perché non ce la facciamo. Anche perché dall'altra parte la casa fino al 15 non ci permettono neanche di entrare. Io di maggio ho già portato un po' di mobili e alcune scatole di vestiti e poi ho dovuto fermarmi perché la signora mi era andata in ansia e non riusciva a gestire la cosa. Lei adesso la casa ce l'ha chiusa quindi noi non possiamo neanche andare a portare i mobili. Dovrei trovare una soluzione per portare i mobili in un posto, finire di smontare quello che c'è, vediamo se riescono a ridarci qualche altro giorno. Quindi il 13 rimarrete ancora qui? Noi il 13 saremo qui anche perché il 13 è dopodomani, non è che abbiamo una data, se oggi non siamo riusciti non è che dopodomani riusciamo. E non è che stiamo raccontando storie così. Abbiamo una problematica anche con la titolare della casa che ci ha filmato il contratto d'affitto che non ha trovato il posto dove andare, non ha trovato un appartamento. Lei diceva che aveva già delle soluzioni ma non ce li ha queste soluzioni al momento. Sta provando, adesso è andata da dei parenti a Roma e da lì ci farà sapere se trova qualche soluzione. Però non so anche noi come facciamo a buttare in mezzo alla strada una signora di 80 anni, anche se abbiamo un contratto che ci dice che siamo dalla parte della legge noi finalmente, anche se qui non siamo dalla parte della legge come ci dicono. Di là noi abbiamo un contratto firmato e registrato, però c'è una signora di 80 anni dentro da sola, io cosa faccio? La metto in mezzo alla strada lei per mettermi a posto per me. Questa empatia e sensibilità alle quali Giuseppe fa riferimento non sembrerebbero in linea con il comportamento tenuto dalla nuova proprietaria, con la quale non riesce ad accordarsi per un ulteriore rinvio dello sgombero. Per permettere con più tranquillità il loro trasferimento nel nuovo appartamento. Lei dice che ha un'esigenza abitativa, non è così, le cose non stanno così a mio parere, anche perché questa soluzione abitativa non va bene per lei, bisogna i cinque figli. Questa è la cosa che loro hanno detto, però va bene. Loro dicono che hanno un'esigenza loro. Dicono anche che con noi non hanno trovato un interlocutore con cui poter aprire un interlocutore, ma non è così. Sì, smentisco tutto perché non è così. Noi siamo in difficoltà, possiamo aver avuto qualche reazione sbagliata, per carità, ma siamo qua. Gli è stato offerto anche dei canoni d'affitto per i mesi che rimanevamo qua, per questi due mesi non l'ha accettato. Ha fatto una controproposta molto più alta e molto più esosa, magari anche giustamente, non lo so, calcolando dei costi che lei ha sostenuto e calcolando delle spese legali. Però, detto questo, siamo qui. Dall'altra parte non c'è questa sensibilità o questa voglia di capire. L'appartamento di Loreto è stato trovato a seguito di una profonda ricerca per una nuova sistemazione che supportasse le esigenze del giovane Alessandro. 800 euro al mese che con un contratto d'assistenza il comune di Pesaro si impegnerà a pagare per i prossimi sei mesi, eventualmente poi rinnovabili. Noi non abbiamo una soluzione alternativa a quella casa lì, anche perché a Pesaro non ci sono. Noi siamo stati contattati dagli assistenti sociali anche giovedì scorso, i quali mi hanno ribadito che non hanno soluzioni abitative, ma neanche in residence, ma in albergo. L'alternativa che mi hanno trovato era a Monbaroccio, mi sembra, in un residence, che comunque non ci risolveva il problema del mobilio che abbiamo dentro, ma soprattutto mi impedisce anche di continuare la riabilitazione di Alessandro. C'ho Alessandro che comunque questa settimana ha fatto solo due giorni di palestra, dovrebbe farne cinque alla settimana. Io è questo quello che chiedo, un attimo di serenità per poter continuare il percorso di Alessandro perché stiamo lavorando per metodi in piedi. È un ragazzo che doveva fare una vita da vegetativo e quindi io non so cos'altro posso chiedere oltre a questo. Anche trasferirsi temporaneamente a casa dei genitori di Giuseppe a Villa Ceccolini è un'ipotesi complicata. C'è mia mamma e mio babbo, ci sono due stanze, e dove vado in due stanze? Io con un ragazzino così e con due anziani, uno di quasi 90 anni, uno di 85, come faccio a entrare in una casa del genere, in una situazione del genere? Non c'è proprio il posto, permettici, dovremmo dividirci come famiglia. Si è stati già divisi 18 mesi quando Alessandro è stato in ospedale come famiglia. Siamo un pochettino provati, si può fare tutto nella vita. C'ho Alessandro da gestire, che gli si sta muovendo le gambe, è una cosa positivissima, ma deve starci con la testa perché stanotte ha dormito un'ora e tutti noi abbiamo dormito un'ora con lui. Deve essere medicato, accudito. C'è un ragazzino che deve dare l'esame del terza media, adesso a fine di questo video. Io non posso perdere il controllo di questa situazione.